Ciao ragazzi, oggi sono finalmente arrivate le adidas superstar, cioè almeno quello che dovrebbero essere delle adidas superstar e con degli schizzi colorati sulla suola, non so che cacchio mi è venuto in mente di comprare, mi sono fatto prendere un po' dalla smania e queste le ho acquistate a metà dicembre, circa il 15 dicembre, mi sono arrivate oggi, quindi un mese di attesa abbondante e non sono troppo convinto dell'acquisto, l'ho pagato comunque 25 euro, quindi qualsiasi cosa ci sia dentro penso che possa andare bene adesso vi metto un'immagine di come dovrebbero essere, andrò ad aprirle, vediamo un po' se quantomeno il modello sia quello giusto, poi il numero lo verificheremo scusate la maglia non troppo heterosessuale, andiamo a vedere un po' cosa c'è qua dentro incredibile sono quelle che ho ordinato levo sotto pluriball guardate io direi che sono più che accettabili il materiale anche non mi sembra troppo scadente per la media purtroppo ci sono questi schizzi di colori inguardabili che non sono purtroppo solo sulla sola ma anche sulla scarpa non so, ripeto, cosa cacchio avessi nella testa quando ho deciso di comprarmele così, non bianche, ne classiche ma è stata una scommessa, non so se è una scommessa o solo una minchiata comunque rispecchiano appieno la descrizione e la fotografia che c'era sul sito qui abbiamo anche un cartellino Adidas adesso le provo un attimo, vedo un po' se il numero è quello corretto dentro c'è scritto 44 a mezzo che è quello che volevo però spesso sono o più piccole o più grandi è dovuto, non troppo, come dire, attendibile il numero che c'è scritto sopra vediamo, adesso vado a provarmi un attimo per concludere ragazzi posso dirmi più che soddisfatto di questo acquisto nonostante, lo ripeto, sono stato un deficiente e abbia acquistato un modello praticamente inindossabile in luogo pubblico senza venire preso per il culo anche dalle piastrelle però mi sento di consigliare vivamente a chi voglia risparmiare dei soldi e abbia pazienza di aspettare un mese di acquistare le superstar su AliExpress grazie a tutti e un buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti